Abbiamo fatto un buon primo tempo, al secondo tempo abbiamo fatto fatica, quando ti fanno gol e dopo abbiamo fatto fatica, loro hanno spinto, hanno chiuso la partita e siamo in difficoltà. Ha detto Ventura che ripari delle spalle, il tempo avrete chiuso con due pochi vantaggi. Ci sono stati episodi decisivi che magari potremmo passare in vantaggio, però questo è il calcio e purtroppo siamo andati noi sotto alla ripresa e da lì siamo andati in difficoltà. Non dispiace chiuscire un po' la Stadina che era stata fantastica? Certo, perché abbiamo fatto delle cose straordinarie, adesso abbiamo una pazza che veramente facciamo fatica e dispiace perché l'entusiasmo in città sta spegnendo e prima di tutti ci dispiace. L'entusiasmo in città c'è, perché comunque i tifosi vogliono ancora vedere la squadra vincere un po', vedono invece voi come squadra mancare dal punto di vista proprio della rabbia, della cattiveria e della voglia. No, ma tutto dipende da noi, la voglia e la voglia di fare bene c'è sempre, però è un momento in cui non riusciamo, quando andiamo sotto non riusciamo più a uscirne e niente, veramente quando andiamo sotto ultimamente siamo in difficoltà. contro la sconfitta consecutiva ci sarà ancora la possibilità di divertirsi in questo finale di campionato? Ma certo, ma noi la metteremo tutta, siamo i primi dispiaciuti di questa situazione, comunque già da martedì riprenderemo per fare il massimo per queste tre partite e provare a chiudere iniziosamente.